i turri non ce n'è stato perchè si no capisci ecco la sperma fa la roba allora perchè si no va finisci come altre cose chi sta scattando la cinta chi dici vuoi do chi dici che arriva vieni 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 scusi ma mi segnerò tutte queste cose tutte queste cose che si svegliano in giro tutte queste cose che si svegliano in giro di fondo non c'è sta niente allora i costi che non stanno chiudendo sono sospesi perchè se non si raggiunge l'effettività di 80 ore non possono essere riconosciuti come corsi validi di frequenza quindi che cosa succede? che appena è stata l'ottantesima ora anche se sono 5 persone 6 persone forse vanno male allora vengono sospesi perchè chiaramente devono sostituire le persone che mancano perchè non hanno il numero regalo per essere effettivi ma poi ci siamo a non si ripetere a non ci siamo a mentre ci siamo pochi